Siamo qui in duvando di Ocruzino in paese di Pasriciola sotto il Monte d'Oro. Emo parla oggi di la storia di suo paese che ha contato più di mille persone al principio di ventesimo secolo. E passare, scontraremo oggi a Félix Penelli, l'anziano mare che ha denofato il dragolino di tutto il gantone di Ocruzino in Cinarca durante 40 anni qua. All'epoca si poteva lavorare perché non c'erano mica 6 vetture. E mentre le mie vetture facevano le sue corse per la settimana, dunque lavoravo assai. E mi ha permesso di montare qualcosa di importante in paese. E l'ho giuata durante 45 anni. Ma dopo, alla fine, gli ero un po' con le rive. Perché tutto il mondo aveva esovitore, tutto il mondo andava alle grandi superfici. E a quello che passava a me come ad altri, mi piavano più che a c'erano i sogni. O giorno, o giorno. A Zoroba, Félix Penelli l'accontontano che è un dottato fino all'anno 2010. Ha possuto profittare di savoir di Ocruzino quando la c'era sempre a gente. Pasriciola, intanto che la luga di Montagnera, era il paese più importante di Ocruzino, con 14 cipoti. In 1930 erano 1320, dunque c'era 6 iente. Dell'annate 60, 60, 60 erano sempre più di 500. Dopo, ben sicuro, si è spopolato. E come c'era tanto iente in questi paesi? Più di mille persone in Ocruzino? Perché iente che nasceva qui dopo, non avevano andato. Non c'erano che i militari che partivano. E i militari, i sotto-officiari, a 35 anni erano a ritirata. Gli ugliano a ritirare a un paese, trovavano i siti e li montavano le scuole. C'erano cinque scuole in Pasriciola. Come credevi che eri spopolata così? A Entra cercava gli impieghi, non c'era nata chi via. E partia impiegata, nella puria. I militari non ce n'era quasi più. Le scuole erano più alimentate. E si è spopolato così. Spopolato, sicuro, ma mica l'abandone. Come pareti a ieri di Uglantone, che dai basriciola è stata arrivata, che fresca è stato le nuove trinche. Da chi accoglie a soiente scarsa, un buone condizioni. E' stata fatta dopo il 2009, dopo l'estate letto merda. Era importante perché era una pittura blu, come tutti gli esi, blu chiaro. E vogliamo che la cosa era poco presso, un po' pesce di Pasriciola. Dunque, a maggior parte, il fatto che la possibilità che noi avevamo l'abbiamo muovata cinque volte in cui Mario sepilgeva. Simbolo di un fenomeno dispopolamento di Ucruzino, Pasriciola è approdito, ma una parte di grazia anche con il compito del cammino di croce.